Curra curra vaglio, curra curra vaglio, io io io, curra curra vaglio. Dopo una lunga seduta, il Consiglio Comunale, presieduto da Raimondo Pasquino, approva la delibera che prevede la realizzazione, a costo zero per l'amministrazione, di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione umida nel carcere di Secondigliano. L'impianto, ha spiegato il vicesindaco Tommaso Sodano, consentirà il trattamento di circa 10.000 tonnellate di frazione umida annue. Approvati a maggioranza dall'Aula anche la delibera relativa alle prime misure di adeguamento ai principi di liberazione delle attività commerciali presentata dall'assessore Marco Esposito e le deliberazioni a firma dell'assessore Anna Donati, con le quali si stanziano 96.000 euro per i lavori urgenti al muro di contenimento in via Posillipo e circa 200.000 per il cedimento di un muro in via Manzoni. L'Assemblea Consiliare ha nominato inoltre Maria Rosaria Comfort, unico rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele.